Inaugurazione davanti alla Capitaneria di Porto di due panchine dipinte realizzate dai ragazzi di Open House, obiettivo l'inclusione sociale, uno spazio dove poter riflettere e dove poter organizzare delle iniziative per poter lasciare un segno, un valore aggiunto per la città. Uno splendido progetto, una fantastica squadra, spiegateci il vostro messaggio, il messaggio che volete mandare con questo progetto. Allora, Open House nasce come centro multiesperienziale per dare una risposta a tante famiglie che vivono quotidianamente la disabilità e non solo. Con queste panchine insieme ai ragazzi vogliamo dare un po' una sorta di provocazione anche alle persone che in un modo o nell'altro si siederanno su queste panchine e abbiamo volutamente scelto due frasi, una che è presa dal piccolo principe e che è un invito a guardare oltre e a guardare col cuore le cose perché spesso è quello il vero essenziale della vita. E nell'altro invece è una domanda, ci siamo chiesti prendendola da app che è un cartone animato, quanti palloncini servono per far decollare un sogno ed è un invito a perseguire un po' quelle che sono le proprie aspirazioni ed è quello che cerchiamo di fare quotidianamente con i ragazzi Open House. Quindi quando vi sedete qui magari è un modo per sedersi, riflettere, porsi delle domande e al tempo stesso godere anche alcune belle panchine fatte dai ragazzi e dai volontari di Open House e della stanza dei piccoli. Un altro importante gesto di inclusione per la città? Sì davvero, questo è un modo di diffondere proprio la cultura di inclusività, una città che per tutti parte anche dalle piccole cose proprio come ci ricorda la frase del piccolo principe perché l'attenzione alle piccole cose che hanno un grande valore sociale, un luogo di incontro, un luogo dove le persone possono star bene e come non riceverlo da Open House che naturalmente è una realtà molto virtuosa in questo senso proprio perché utilizza tutte le risorse educative e le mette a disposizione, mette, dà la stessa possibilità a questi ragazzi di interagire su uno spazio pubblico e nello stesso tempo di misurare anche quelle che sono le proprie possibilità. Quindi avanti tutta questo è un luogo che loro potranno utilizzare al meglio nel tempo e con tutte le attività che vorranno svolgere. Open House, una realtà di grande valore che ha realizzato un progetto importante? Sì, Open House è ormai da anni una realtà importante che realizza concreti percorsi di inclusione sociale, momenti appunto e attività che danno la possibilità anche a ragazzi e ragazze con disabilità di poter partecipare attivamente alla vita sociale e anche di poter contribuire come in questo caso a riqualificare due panchine che comunque sono simboliche e comunque fanno insomma fanno vedere insomma che ci sono attività in cui si possono coinvolgere davvero tutti e quindi Open House è una realtà importante perché rappresenta poi anche un segno tangibile di cosa vuol dire fare welfare, soprattutto welfare di inclusione ma welfare anche generativo perché diversi ragazzi e ragazzi che sono seguiti anche dai servizi sociali dell'ambito poi sono appunto inseriti nei percorsi, nelle attività, nei laboratori che Open House porta avanti. Un grande applauso a questi ragazzi!